il disinnescatore è stato recuperato raggiungete la bomba e disinnescatela occhi aperti per il nemico qualcuno era uscito a me stanno allora qua ho bisogno di te Ash c'è una porta di cassa da far saltare in alto oh cazzo qua dietro non c'è più aspetta fammi vedere che non ce ne sia un altro Ash fai un po' saltare qua lì? si fammi ricaricare occhio che non ci facciano ah dietro non possono passare ottimo arriverà a caveira da dietro? no davanti dall'altra bomba disinnescatore attivo arriveranno da lì e anche da lì dal muro eccolo l'hai inciso? si dietro 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 si credi che non l'ho vista, era a fianco no, mio dio, si, oddio